mmm eh ma il gibe è uscito mi so qua è tattica infame il gibe, mi pare che questa... qua sono molto bravo io eh, sono molto bravo in sto gioco e usciva sicuro e chi ha? ok segui sto qua sto coglione, vai ok qua a sinistra vai Fabio va avanti ho un coglione, ok bravo coglione, oh stavo spingendo ok qua adesso, ok di qua oh no, io non ci voglio andare qua se cado qua alla fine dai pezzo di merda, ok avanti ma che non lo spinge più sto coglione? sinistra per forza, sinistra avanti vai vai coglione, bravo bravo ah io mi nevo più di qua ragazzi no no, che grito no no, mi fido quant'è che ne passano 9 quindi? non riesco a spingere... eh Fabio pomodoro ok ah guarda c'è una città morosa perco di so... oh mi sto spingendo me stico odio no, perco 2 no, no non ci credo, porco non ci credo nooo, non ci credo che numero che numero che numero che numero che numero ci hai visto pazzesco che numero pazzesco raga pazzesco da salvare sto giocato eh no se vinco salvo per forza adesso ecco appunto no raga no no ecco no ragazzi go out no ma come me l'ho fatto? ho fatto una remuntada si si ma sai cosa faccio adesso giù? guarda come fai a slanciarmi via così? attenzione eh, si sente proprio pazzesco attenzione eh, si sente proprio pazzesco bastardo adesso mi distraggo caddo giù io ho rischiato ho rischiato ho rischiato questo figlio potente sarà fortissimo sarà ecco ecco è impossibile raga no raga vinto 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 vinto